Guido fa parte anche della squadra dei sei nomi della provincia di Cura, candidati alle prossime elezioni regionali di fine marzo. Questione di sicurezza, che cosa ha fatto questo governo, cosa può fare la regione? La questione di sicurezza è una questione importantissima sulla quale il governo ha dato una risposta importante destinando delle risorse, dei fondi, un pacchetto di sicurezza che va nella direzione di rassicurare i cittadini e di farli sentire padroni a casa propria. È un punto di base della importanza sulla quale si potrà impegnare anche la regione, che sicuramente è competente in materie, che potrà destinare delle importanti risorse per questo tema, cose cariche e le linee.